Benvenuti nel mondo degli orologi Bonnier. La storia di Bonnier inizia nel 1932, quando Willy Bonnier, un appassionato di sci e di orologi, fondò la sua azienda a Monaco di Baviera, in Germania. L'azienda si occupava inizialmente di produrre e vendere abbigliamento e accessori per lo sci, e presto divenne il fornitore ufficiale delle squadre di sci della Germania Ovest. Nel 1977, Willy Bonnier passò il testimone a suo figlio Willy Bonnier Jr., che continuò a sviluppare l'azienda, ampliando la gamma di prodotti e introducendo nuove linee di abbigliamento e accessori per lo sport e il tempo libero. Willy Bonnier Jr. era anche lui un appassionato di sci e di orologi, e partecipò a due edizioni dei giochi olimpici invernali come sciatore. Nel 2005, Willy Bonnier Jr. decise di lanciare una nuova linea di prodotti, gli orologi Bonnier. Questa decisione fu dettata dalla sua passione per gli orologi e dalla sua volontà di offrire ai suoi clienti un prodotto di alta gamma, che riflettesse lo stile e la qualità del marchio Bonnier. Oggi, Bonnier è un marchio riconosciuto a livello internazionale, che offre una vasta gamma di prodotti per lo sport e il tempo libero, tra cui l'abbigliamento, gli accessori e gli orologi di alta gamma. Insomma, Bonnier è un marchio che unisce la tradizione artigianale tedesca con la passione per lo sport. Non perdere l'occasione di scoprire gli orologi Bonnier, il marchio di orologi di alta gamma con radici nello sport.